Entro la prima settimana di luglio il Teramo punterà ad ufficializzare 8-9 acquisti. La società infatti vorrebbe consegnare a Vivarini una rosa quasi del tutto completa già per il 14 luglio, giorno dell'inizio del ritiro in Trentino. Uno dei ruoli da sistemare dopo l'addio di Federico Serraiocco destinazione Brescia è quello del portiere, da valutare se affidarsi ancora ad un under o se andare a caccia di un elemento più esperto. A tal proposito è in agenda la prossima settimana un incontro con il Milan per decidere il futuro di Davide Narduzzo, 19 anni arrivato in prestito dei rossoneri un anno fa e schierato in poche gare durante lo scorso campionato di seconda divisione. In attesa di scoprire se Narduzzo resterà in bianco-rosso, nelle ultime ore è circolato il nome del portiere Alessandro Tonti, classe 92 in uscita dal Forlì, sulle cui tracce ci sarebbero anche Cosenza e Mantova. Dopo aver chiuso l'ingaggio del centrocampista Stefano Amadio e dei difensori Marco Perrotta, Bruno Martella e Joad Ferretti, il DS Marcello Di Giuseppe sta lavorando sul reparto avanzato. L'obiettivo è quello di acquistare un paio di attaccanti di livello e a tal proposito resta calda la pista Nicastro. Intanto vengono monitorati anche due giovani di proprietà del Benevento, entrambi classe 92, Cristian Bonaiuto già con Vivarini all'Aprilia nel 2011-2012 e Mattia Montini. In casa l'Aquila sul fronte mercato è ancora tutto fermo in entrata, anche se per l'attacco rimbalza in queste ore un nome nuovo. Si tratta di Rashid Armà del Pisa, cercato però anche dalla SPAL. In uscita invece continuano a circolare voci sul conto del capitano Marco Pomante, cercato anche dal Savoia, oltre che dal Matera di Auteri. Il difensore dovrebbe comunque restare rosso-blu, a meno di offerte clamorose. Inoltre non esclusano la richiesta di allungamento del contratto in scadenza giugno 2015 con un ritocco dell'ingaggio. Grazie. Grazie.